scusatemi sul video precedente ma se vi compare la schermata nera non preoccupatevi perché il video schiacciate funziona tranquillamente non so perché ma sembra che c'è un abbassamento del segnale di rete qui adesso provo a vedere cosa succede comunque voi schiacciate video compare tranquillamente non preoccupatevi sarà un problema tecnico non so buona giornata